Ehi la ragazzi, salve a tutti, bentornati con One Piece Unlimited World Red E' da... penso un paio di giorni che non ci gioco più No scherzo, è tipo mesi E infatti non so niente Allora, vi spiego subito cosa... 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 Praticamente, durante questo periodo che non ho fatto più niente Ogni tanto ho preso in mano questo gioco E mi sono andato a cercare un po' di materiali, insomma Adesso non mi ricordo bene cosa ho preso Però so che ho fatto abbastanza, direi Ho fatto salire un po' i personaggi Ho fatto un paio di missioni, appunto, per farli salire Ho preso i materiali, mi pare, per fare le robe che mi mancavano Un po' la cavball Pezzi piccoli, ok, ok, quindi Ho aperto un nuovo Emporium Qua ancora più roba, grande Ce l'ho ancora finita Ok Sì, come vedete, tipo... Ho preso di... ho preso di tutto Ho aumentato le mosse Vedete presente, no? La tipa, la... Quella che sta sul ponte, insomma Ecco, lei lo... ma mi tocca controllare Perché, tipo, per partire Mi ha fatto i fotogrammi non elaborati Che schizzavano la manetta Ovviamente, ragazzi, i tasti sono tutto tirando a casa Cioè, faccio quello che mi ricordo Non mi ricordo come eravamo andati avanti con la storia Quindi mi sa che... Non vorrei dire, ma... Mi sa che dobbiamo andare avanti Cioè, mi sa che dobbiamo fare un livello della storia Allora, appunto Come vedete, il livello struttura non è abbastanza alto Io questa roba non l'ho ancora capita Però, tipo, quasi tutti Non tutti, perché poi... Già, ragazzi Andare a prendere tutta la roba È un massacro Vedete, tipo questi? Materiale insufficiente Questa roba qua non l'ho fatta Per esempio, il gioiello d'argento Per fare un gioiello d'argento Devi spaccarti le ossa Perché devi prendere un bordello di... Di robe E allora ogni volta devi fare avanti e indietro per i livelli Pescare quello, pescare quell'altro È un casino È un casino Nonostante tutto ho fatto abbastanza, penso Allora, dato che dobbiamo andare avanti con la storia Ragazzi, io non mi ricordo i commenti che mi avevate scritto Nelle vecchie parti Però, se non ricordo male Mi avevate detto che mancavano due livelli Prima di finirlo O due livelli e poi boss Non mi ricordo Comunque c'entrava il 2 Allora, vediamo se sviluppo Posso fare... No Bambù flessibile Banana gigante Ma chi l'ha mai vista? Raga, 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 raga Fermi tutti Sì Visualizza campo Oh, dammi qua Cipolla Grande Questa non è ancora pronta Ok A quanto pare devi giocare per farlo crescere Non è che cresce anche se stai fuori dal gioco Non so cosa c'ho C'ho di tutto qua io C'ho 40 simili Ma che cacchio me ne sto facendo io Vabbè, comunque Eeeh Andiamo avanti direi Se non ricordo male Avevo trovato anche qualche Qualche tesoro Però non mi ricordo minimamente dove si trovi Allora, no Modifica squadra Perché c'avevo quella? Non lo so Comunque come vedete Tipo Tutti al 14 Alcuni salivano al 15 Vero? Sì Tipo Nami Stanno quasi salendo tutti al 15 Vabbè, Frankie è a metà Quindi tipo Prendo Frankie Prendo quelli che Stanno facendo fatica Insomma Mazzo che squadrone Vai così che andiamo dappertutto Legami O legami Poi dipende dai gusti delle persone No, scusate Dove cacchio siamo? Ah, ok Non mi ricordo come si chiama La città natale di Rufi Allora, i tasti Ok, con meno si cambia il PG Ah, non mi ricordo Come si chiamasse Parola che aveva trovato Il mio nome è Capitano Azo Oh, dove l'ho trovata? Che cosa è successo? Ok, devo Devo riabituarmi un po' Non è vero Basta che premio in testa a casa Va bene così Ok, no Brook faceva schifo con ste mosse Ho scoperto che Ci sono La farfalla Quando voi prendete una farfalla Possono uscire varie cose Poi a seconda della Della difficoltà Esce un animale più Più raro, insomma Per esempio Allora, le zone E poi ovviamente cambia anche Alla zona, no? Cioè, raga Io mi ricordo Dove sono tutti i tasti Incredibile Misura più 30 centimetri Vai Questa ce l'avevano già Ma mi sa che gli animali Li ho presi tutti Adesso non vorrei dire una cagata Posso saltare di qua? No, ok Qua c'è un coso per Chopper Dove posso andare io? Ah, di qua E c'è già da trovare la parola Però Non è vero Non c'è da trovare Ah, ah, ok Era quella Sì, ma aspetta Oh, ma calma Cioè, io non ho visto neanche la mappa Allora Per di là si va avanti Ma Se voglio andare indietro io No, ma scusate Mi hanno fatto venire lì E poi È chiuso proprio Cioè Nella mappa è aperto Ma va bene Ok Allora direi che si va di qua Primo piano proprio Grande Giappan Ah sì Il Monte Corbo è È quello dove c'era la tipa Vero? La vecchia Quei capelli arancioni Oh, oh Teoricamente Si sono conosciuti lì Ah, bene Un altro labirinto Grande Che bello Non mi ricordo Non mi ricordo Cosa possono servire Gli animali Oddio Che ambienti In cui crescere Ma cosa vuoi? Cosa è successo? Ma più che altro Perché sto usando Oh, l'anugine Non mi ricordo se mi serviva ancora Ma fa lo stesso Prendiamo tutto Prendi tutto Porta a casa Oh, lì c'è una cosa per Zoro Pappa reale Che non ho ancora capito Cosa serve Ah, c'è una cosa E un tesoro Che cacchio di lupi sono? Ma non fai davvero Guarda quanto sono grossi Giù, giù, giù Ah, ma cacchio Ecco perché mi ricordavo Che potevo andare più veloce Perché c'era Sanji Che c'era la mossa per correre Cacchio, devo prendere lui Per spostarmi Allora, sono tornato all'inizio Ok, ho fatto il giro Dall'altra parte Ok, allora Adesso andiamo La sinistra Casa di Dadan Ecco, Dadan si chiamava Era una bandita buona Mi aveva che mi ha fidato Da lei da piccolo Chissà come se la sta cavando Sì, è la tizia Che dicevo prima Quella con i capelli arancioni Oh, Brooke sale di livello Oh, c'è un tesoro Succo per dolce Non lo so Poi ragazzi Le ricette Non so Non penso funzioni Come nell'uno Che se fate le ricette Cioè, le ricette Servono per fare il 100% Dove sono finito? Quindi Non penso di farle Era per di qua Ah no, qua ero Ok, no, niente Pot Pot Niente Non è successo niente Ehi là Ehi là Andiamo a massacrar È bello Frankie Perché ogni tanto Lo vedi con una concettura diversa Tipo prima Lo vedi Che c'era le corde A volte Così c'era scritto A volte Is Li buttavo giù dal fonte Misura più 50 Ok, qua prendiamo una talpa gigante Vai così Quanto? 219 centimetri No raga 219 centimetri Sono 2 metri e 19 Che talpa Ma cos'è? Oh, qua c'è un coso per Robin Che tra l'altro Ce n'era un altro da un'altra parte Però non l'ho letto Mi pare C'è un modo Se lo sapete Di vedere Cioè, per esempio Nel Ma qua non c'è nessuno Cos'è? Mi fa inire in un'area enorme E non mi metti nessuno Davvero? Wow Un modo di sapere Come magari In Limited Cruise Che tipo di Di cose mancano a Robin Perché Se vi ricordate a Robin C'era una lista Di Di pietre Che Che poteva Che doveva leggere Che c'erano nel gioco Però qua Boh Se lo sapete Magari Ditemelo Qua un'altra area vuota Grande E qua c'è da trovare L'altra parola Sconfiggio le creature Con gli artigli Per ottenere la parola Sconfiggio le creature Più forti Per ottenere Devo sconfiggermi Da solo Non ho capito Si è capito Ma Ehm Non appare nessuno Dimmi the words Olè Oh chi è salito Asop Dai calmi 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 tutti Manca Frankie E Frankie sta per salire Quindi prendiamo Frankie Che si cambia i capelli È diventato È diventato pelato Avrà il mio sostegno Ok Vediamo Frankie Lento come la fame Mamma mia Che sembra che si muova A rallentatore Sconfiggio le creature Raga Ma io le ho sconfitte Non è che sono due allora Ma mi sa proprio Che sono due parole Eh infatti Ok Corsa Gorilla Oh E Frankie sale E ho fatto sta mossa Non so il motivo Fa lo stesso Perché c'era scritto Nel coso Ehi Preso Guardalo Che figo Parola chiave Neppure la morte Qualcosa Che figo che è Ha finito dentro il barile Andiamo Asop Asop mi pare sia il più veloce Comunque Che c'ha C'ha anche il bonus Lui lì Quindi Guarda È un siluro Cos'è Ok Ora possiamo salire Siamo quasi in cima Ah quindi Tipo Più avanti Possono servire anche più parole Ok E vabbè Più gente Allora facciamo un bel gioco Tutti quanti Al mio 3 Andiamo tutti per terra Ok 1 2 3 Sì è tipo Ogni volta che fa la mossa lì così Vibra Esplode sto coso Va bene Cioè calmi eh Proprio Non è che Non è che No Oh ho preso un frutto dorato però Buono Quello mi serviva Ora dobbiamo andare Di qua Permesso Eh Non vorrei dire niente Ma mi sa che C'è il boss qua Eh Mi sa di sì Questo po' Eh vabbè Ci sono pure le tre Sì grande Cioè del tipo Del tipo ragazzi Solo 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 Cioè ragazzi Da quanti anni sono lì Quelle tazzine Non ho capito Tazze Da sake dei fratelli L'ultima era Cosa Ace Ah è vero che Il tipo Poteva portarle in vita Ok Stavo preoccupando Ho detto ma che Ci deve essere qualcosa Nell'anime Che mi sono perso Allora Ho detto che Se ne occupa lui Ma state a vedere Che non uso Luffy State a vedere Con tutta la scena Così Ma alla fine Sarò Azo Cosa 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 Oh Buoni 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 Buono Aspetta un attimo Allora Allora Mi serve da mangiare Capsule curative Ok Usa Ok bene Allora Mi sono Mi sono procurato Un po' di Di cose Di pillole Pastiche varie No Stavolta roba Drogate Comunque Appunto Per Le battaglie Aia Si ma se non mi dici Schiva Come faccio Non mi resettare Così Mannaggia Fammi fare una combo Non l'ho fatta ancora Non è vero Si l'ho fatta Non mi resettare I comandi Non mi resettare I comandi Che ti spacco E adesso Cosa è successo Oh buono 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 amico Perché non mi fa la mossa Oh cacchia No In realtà Non volevo L'ho schivata Ah ma io sbagliavo tasto Ma porca vacca Cioè c'avevo Lo spaca Di Il break rush Porca vacca Ok si è arrabbiata E Ok Aspetta un attimo Cioè c'avevo il break rush Ma al posto che Cliccare quello R Clicavo L E infatti dicevo Ma perché non mi fa la schermatina Che gli facevo Un po' di danni In più Perché sono un idiota Probabilmente Sì Adesso gli faccio questo Non è vero E invece sì Ah Ace Mannaggia a te Tanto non mi colpisci Sì ridi Ma se la spari in mezzo Io vado ai lati Non mi colpisci Non l'ho ancora capito E adesso io invece lo colpisco Ace Allora Chiariamoci Devo farti una combo E felici siamo No ok Ok perfetto Se non me la fai fare Ah ma sta morendo Ah ok Posso Allora non serve Ecco ho detto Serve Serve fare la combo Perché Mi da più punti Ma se stai morendo Scusa eh Eccoli Cartone in testa E un cazzotto Secco Ace Raga ma no Seriamente avete visto Quanta vita aveva Continuavo a tirargli i pugni Non potevo finirlo Con quella Cosa vuol dire Cioè non ho capito Perché dovevo finirlo Con Redhawk Cioè con gli altri boss Non me l'ha fatto fare Per esempio Se proprio volevano farlo A parte che Barba bianca Non è stata Non è stata Va beh niente Ma tipo Coso Come si chiama Il pesce lì Devo finirlo Con l'elephant gun Non ha senso Anche perché Cesar me l'ha fatto Finire con Col coso lì Grizzly Ma l'ha fatto lui Nella Non mi l'ha fatto Non mi l'ha fatto Seguire la storia Grazie Il 27 è completato Buono Ah ecco perché legami Ah ok Allora non era legami Peccato Abbiamo preso un po' di schifezze varie Ok 23 erbe a mare 28 lanugi Buono Buono Voler diventare più forte 1000 flussi stomp E ora è disponibile Blizzard slice Ok che dimostra Cosa vuol dire incrementa mvm Ma perché mi dai Cosa Quando non si bestemmia Gigantesco mano Stomp Sarà una mossa speciale Ok ho imparato altre mosse Comunque Canzone di grafi Blizzard slice Ok Allora Eeeh Non facciamo altro Perché tipo qua Sono a 40 minuti di registrazione Cacchia Chissà ora cosa si aspetta Cosa è stata Che riusciamo a sentire L'entrata era dell'isola Vicino al campo di battaglia Che Redd ha preparato per noi Questa è la battaglia È finito Tu pensi troppo C'è un intendo Dove stessitarti Del distinto Lascia stare Zoro Te proprio anche Guarda Allora Vediamo un attimo Giusto l'ultimo saltone Che non Non si dice Ma fa lo stesso Allora Mi serve Due carboni Una vongola con perla Questo possiamo farlo Quindi Subito Aumento il livello Della poetessa Ah ho capito Quindi tipo adesso posso Ok Comunque ragazzi Allora Per questo video è tutto La prossima parte Andremo a vedere Ciò che abbiamo sbloccato E robe varie Intanto io vi saluto Ci vediamo alla prossima parte Qui dalla notte è tutto Ciao a tutti